Galeazzo Bignami, capodista della Camera per Forza Italia, alle prossime elezioni del 4 marzo il capogruppo in Consiglio Comunale di Forza Italia, Alberto Ancaragna, hanno fatto il punto sull'esperienza dell'Aus Unica in Romagna. È stato un esperimento, hanno dichiarato, che dal 2014 al 2017 ha fatto sì che siano stati tagliati circa il 10% dei posti letto, con la scusa di razionalizzare i costi, si è andati in realtà a risparmiare i suoi servizi. A tre anni dalla creazione dell'Aus Unica registriamo un deterioramento dei servizi e soprattutto sul parametro dei posti letto, che è l'indicatore principale in ordine al quale dobbiamo valutare e possiamo valutare l'operatività di questa nuova struttura. Registriamo un calo perché si è realizzato un taglio sostanziale del 10% sui nosocomi di Ravenna, di Lugo di Faenza, colpendo soprattutto le chirurgie e quei reparti che invece dovrebbero assistere prevalentemente alla popolazione anziana, che è quella che purtroppo oggi compone maggiormente il nostro tessuto sociale. I tagli sono avvenuti su tutti quanti gli ospedali del nostro territorio, quindi Ravenna in particolare, ma anche Lugo e Faenza. Registriamo un taglio che è assolutamente indiscriminato, ovvero Lugo, Faenza e Ravenna, del numero dei posti letto, il che si traduce quindi anche e soprattutto nelle strutture meno centrali rispetto al capoluogo Ravennate, di quei servizi che magari proprio colpiscono la popolazione a mobilità ridotta e che deve essere costretta così a recarsi negli ospedali di Ravenna, di Forlì o di Bologna per trovare un'assistenza che non trovo più sul territorio. Qual è invece la direzione in cui bisognerebbe andare dal vostro punto? Secondo Forza Italia bisogna cambiare gli obiettivi. L'obiettivo non deve essere quello del taglio della sanità e taglio come risparmio, che è per carità un obiettivo anche giusto, ma bisogna poi vedere come tradurlo. La nostra stella polare è l'orogazione di servizi sanitari adeguati all'altezza e non quindi il taglio indiscriminato. Bisogna recuperare risorse, è certo, ma abbiamo voci di spesa assai più ingenti, come ad esempio lo stipendio dei dirigenti che da Viale Aldomoro decidono queste cose, che preferiscono piuttosto che tagliare i loro stipendi, appunto operare dei tagli sulla pelle dei cittadini. Sempre sul tema della tutela della salute dei cittadini, Ancarani ha anche sottolineato l'anoma alla situazione presente nel reparto di medicina del Santa Maria delle Croci, dove il ruolo di primario del reparto sarebbe stato assegnato in maniera arbitraria e senza un regolare concorso all'attuale direttore di struttura complessa dell'ospedale di Faenza. Non è un nuovo primario, è il primario di Faenza mandato a fare il facente funzione nel più grande reparto di medicina generale dell'Ausola Romagna, che è il reparto dell'ospedale di Ravenna. Tra l'altro in deficit di posti letto, come peraltro abbiamo spiegato. È accaduto che il precedente primario, per una sua legittima scelta personale, ha scelto di andare a fare il primario all'ospedale di Budrio e l'Ausle, anziché fare una selezione corretta secondo le norme, secondo la Prassi, ha messo a fare da facente funzione colui che si deve occupare già del reparto di Faenza e sinceramente questo non può che andare a documento anche delle prestazioni sanitarie, perché un primario di quel reparto con quelle dimensioni che fa il facente funzione ed è già primario principale a Faenza, francamente ci chiediamo come possa operare al meglio, non perché non abbiamo fiducia in lui ma perché è Ausle che si deve preoccupare della qualità del servizio che viene erogato.